Sono stato coinvolto nel film Viva Volinsky e da Davide Riondino, con cui ho una vecchia amicizia. Poi sono stato coinvolto anche dal fatto che io ho conosciuto Volinsky, come ho conosciuto altri autori satirici uccisi purtroppo nella strage di Charlie Hebdo. Alla parte che interpreto, che per contrapasso è quella di uno, anche lui, nel film Amico di Volinsky, ma di cui non gliene frega più un accidente di Volinsky, gli frega solo dei soldi e vuole fare altre cose e quindi diciamo che ha abbandonato lo spirito anarchico di Volinsky sposando quello del mercato. Quindi per contrapasso faccio una parte che è anche un po' l'opposto non solo di chi era Volinsky, ma anche di chi sono io e la cosa mi divertiva molto. Per quello non mi sono preparato affatto. Davide Riondino, sono passati cento anni, ma chi vuoi che gli freghi qualcosa di Volinsky fra un po' non sapranno neanche più chi era. Il mio processo creativo, se di questo si può parlare perché mi pare un po' eccessivo il termine per interpretare al meglio il personaggio che interpreto nel film, è stato quello di mandare a fare in culo Riondino, che era il mio coprotagonista nella scena. Siccome ho detto che l'amicizia con lui è di vecchia data e siamo tutti due toscani, il mandarsi a fare in culo è sempre stata in Toscana una istanza affettiva, una dimostrazione d'affetto. Quindi gli ho dimostrato tutto il mio affetto mandandolo a fare in culo. Sai che devi fare, Davide Riondino? Prendi e torni da dove sei venuto. Infatti è quello che farò, prendo e torno registrando che tu hai un reddito superiore alla tua sensibilità. Io in futuro da me aspetto di esserci intanto, visto che l'età appunto avanza. E spero finché ci sono, a volte anche con momenti di depressione, di amarezza, perché certo la situazione generale non è nelle migliori, siamo di nuovo in un clima di guerra soffocante, di propaganda soffocante. Spero nel mio futuro, se ho un futuro, di mantenere l'allegria fino all'ultimo. Grazie. 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 Grazie.